Ciao, sono Clotilde. Ciao, sono Alessandro, siamo i genitori di Anna Maria Danna, che canterà Distratto di Francesca Michelin. Siamo qui per far sì che il sogno di Anna si avveri, quello di partecipare ad una manifestazione importante come Castro Caro. E siamo venuti dalla Sicilia per fare sentire la voce di Anna. Come mai quindi fare tutta questa strada per venire proprio a Castro Caro? Per far fare un'esperienza importante ad Anna. Castro Caro è in Italia il festival per voci nuove probabilmente più importante, che ha più seguito. Anna, cosa dovresti fare a grande? Continuando questo mio sogno, tra virgolette, potrei anche fare la cantante. Perché mi piace cantare. Lo faceva anche da piccolissima, è una cosa che ha sempre fatto in maniera molto naturale. Hashtag il sogno sia vero. Hashtag sorriso. Hashtag bisogna crederci.